Allora, spero che mi vediate bene Sto girando con il tablet Perché ho il telefono scarico Di conseguenza sto girando con il tablet Allora, perché sono qua? Perché faccio questo video? Faccio questo video perché ho deciso di fare Un nuovo giveaway per il gruppo Facebook Io vi lascio sempre giù nell'info box Il link al gruppo Facebook Vi invito a iscrivervi A iscrivervi al mio canale E iscrivervi al mio gruppo Facebook Non perché a me viene in tasca niente Però fa piacere Che vi iscriviate al gruppo Facebook O al mio canale se mi seguite Ora vi farò una breve review O meglio, una breve carrellata Di quello che ho scelto per questo giveaway Allora, io ho scelto di Acquistare prodotti al verde Perché è una marca buona Che io sto provando Che mi vede entusiasta E praticamente Siccome molte del mio gruppo Sono delle zone da Moltissime anzi Sono delle zone da Roma in giù Non hanno possibilità Di avere il DM vicino Quindi non possono comprare Questi prodotti Allora, cosa ho scelto? Ho scelto una selezione Di prodotti al verde Che possono essere utilizzati Da tutti ovviamente Perché non potevo scegliere Per esempio Prodotti per capelli Perché non potevo scegliere Prodotti per capelli Perché ognuno di noi Ha dei capelli diversi Cioè Che ha capelli secchi Che ha capelli grassi Che ha capelli trattati Quindi molti prodotti Non li potevo scegliere Così come non potevo scegliere Prodotti per il make-up Perché il fondotinta Come piuttosto Il correttore Come insomma Sono strutturati In base al tipo di pelle Avrei potuto scegliere Tinte labbra Ma che purtroppo Non ha Al verde Non ha Oppure Degli ombretti Ma ho preferito Mantenermi sul Più utile Piuttosto che andare Sul make-up Allora Cosa ho scelto? Ho scelto Due prodotti Per il viso Tre prodotti Quattro prodotti Per il viso Perché Ho scelto Una Una crema Idratante H24 Quindi questa può essere Utilizzata Sia giorno che notte Ed è Classica Per tutti Quindi non c'è bisogno Di avere Pelle grassa Pelle secca Questa è Unica Per tutti È idratante H24 Con il complesso Di alghe verdi E marroni Questa qui Io l'ho provata Ed è divina Semplicemente divina La sto utilizzando Tantissimo Fa parte tra l'altro Di un haul Che ho fatto Al DM Però io Non l'ho girato Quindi magari Prima o poi Ve lo girerò O vi girerò Un nuovo Aggiornamento Di tutti i prodotti Che sto amando Follemente Del DM Questa è All'acido Ialuronico Ovviamente Poi ho scelto Stessa cosa Della stessa linea Il detergente Per il viso La detergenza Del viso È molto importante Io in questo giveaway Ho scelto Due detergenti Perché questo Non l'ho mai provato Ed ero curiosa Di provarlo E di farvelo Recensire Farlo recensire Anche a voi Questo è Pelli normali E miste Detergere In fresca Idrata Sempre alle alghe Questo è Per purificare La pelle Ed è sempre Della stessa linea Sempre all'acido Ialuronico Poi ho scelto Le salviette Struccanti Salviette struccanti Alla rosa Queste sono La fine del mondo Alla rosa Loro lo chiamano La rosa selvatica In realtà È la rosa moschetta E infine Uno dei miei Detergenti Viso Ormai della vita Perché Lo sto Semplicemente adorando Come sto adorando Le salviette struccanti Di questa linea Quella Alla mela E al lime È la fine del mondo Bene Io ho scelto Questi quattro prodotti Per fare un piccolo Give away Ovviamente Il mio gruppo facebook È molto piccolino Voi sapete Sono Quasi 500 membri Non sono tanti Voi sapete anche Che i give away Per i piccoli gruppi E i piccoli canali Sono a totale spesa Di chi li gestisce Non sono assolutamente Finanziati da nessuno Questi prodotti Li ho comprati Di tasca mia Quindi Ovviamente È un giveaway Un pensiero Più che altro Ecco Per partecipare Al giveaway Vi lascio sempre giù Sotto nell'info box Ogni comunicazione Vi saluto Vi ringrazio Al prossimo video Ciao